Non sta pioggia, non è venuta un'ora piena, spazza la pioggia, non sta pioggia, non si perde più, eh? Mamma mia! Lo sapevo, è Enrique, lo sapevo, è roba tua questa, è roba tua! No, è la casa di mio padre, se fosse mia l'avrei già venduta, e tu e qualcuno altro come te stareste meglio. Ho capito, sei matto. No, 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 no! E' questo? Il mio nome? L'iniziale? Ma quante nome hai? Mi chiamo Pier Giorgio. Vivere senza fede, senza grandi ideali per difendere, senza sostenere la tontana e lontana e un coraggio, non è vero. Non è vero. Ma per fronte da voi. Il fascismo si proclama rispettoso del cristianesimo, ma è profondamente anticristiano perché si fonda sulla violenza e non rispetta la libertà. Il fascismo si proclama rispettoso del cristianesimo, ma è profondamente anticristiano perché il fascismo si proclama rispettoso del cristianesimo e non rispettoso. Grazie a tutti.